buongiorno volevo visitare la torre sono la guida autorizzata prego prego è tedesco tedesco in germania li lasciano così è questo non in pass in germania la fanno così non mi hanno lasciato così lei che cosa sta cercando è questo hanno in pass in germania non per scritto chiedo scusa faccio vedere amen amen si è così no no ma in germania la merkel la merkel aveva deciso che va bene anche questo ognuno ci ha la sua è bellissimo questo palazzo si è già stato già stato qui grazie a certo certo allora la teone pieno è molto gentile grazie